Ci sarà un altro seminario, una full immersion, domenica 1 marzo del 9.30 al 19, dal titolo Autostima e seduzione in amore nel lavoro e il riferimento per entrambi è 333 15 11 703. Ti do appuntamento quindi a questo incontro e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!